Ciao a tutti, scusate la nostra assenza per diversi giorni, anzi direi quasi un mese ma abbiamo avuto molti impegni, sia Gesù Cristo che SpectNuts ora vi farò vedere un gioco che non anche ho da tanto, proprio da un paio di settimane ci ho giocato un giorno neanche così, poi l'ho lasciato lì ma perché ho avuto altro da fare ora vorrei riprenderlo e mostrarvi di che gioco si tratta molti già lo conosceranno Bioshock chiuditi, via, pelle e palle scusate ma finestre a caso che si aprono alla Dick of Dog, comunque torniamo a noi gioco questo gioco lo sto utilizzando sul Mac, è proprio originale per Mac, non è un porting e ora vi farò vedere cosa si tratta comunque abbiamo caricato diversi video su Talking Tom molto divertenti, se volete andarle a vedere guardate pure che a noi fa piacere continuo non mi ricordo i tasti e non so neanche cosa devo fare, non mi ricordo proprio più di due settimane che ho girato più ok ero nel padiglio questo non lo ricordo non è vero perché c'era scritto, se no non lo sapevo ciao, prima di domani sì, perché questo gioco carica prima tutta la mappa quindi allora ok poi tasto destro ho il potere ok ok scusate sto ripassando un attivo tasto e la sensibilità di questo mouse che boh mi lascia perplesso perché fa abbastanza scherzo c'è visto gioco gioco molto fluido il medico che lo è sempre aggira questo troppo chi torna è? cioè avete finito di fare il gioco che mi date il gioco a stare la stessa però vedere come si truccina la persona guasci e' anche qui c'è niente però soldi ma quella brutta oh my god 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 spetnaz reload sulla superficie il parassita si aspetta che il dottore lo curi gratis si aspetta che il contadino lo sfami per pura carità c'è ben poca differenza con il depravato che si aggira per le strade in cerca di una vittima da violentare per il proprio grottesco spasso vabbè io non so neanche dove devo andare sono bello si guardami come potrei migliorare i miei tratti con l'Adam e il bisco vieni qua che ci pensi di tirarti le ginocchiate sulle gengive e che le migliori le tratte se non fosse l'abilità a mancarmi ma l'immaginazione che c***o che c***o che c***o che c***o Sì, ma c'è un timer quando ho avuto questo set, oddio! Sembra che cosa servisse il timer Quindi ho vinto il mongolino d'oro Dio Quindi dopo che ho fatto tutto sto ciocco Beh, fatto sta che non ho capito perchè non mi ricordo neanche cosa devo fare Comunque, questo gioco qui è molto bello, ve lo consiglio sia l'1 che il 2 Niente, a quante siamo? Vabbè sei minuti, non c'è ancora tempo Niente, vi consiglio questo gioco Perchè è molto bello, però dovete seguirlo dall'inizio perchè sennò come me non capite più niente Niente, vi ringraziamo per la visualizzazione, mettete mi piace che a noi fa piacere E al prossimo video